Io ho fatto lo scrittore, quindi ho... Ha scritto... Ho trascritto... Ma ha detto che l'ha scritto lui, ha fatto... È vero, è vero, la prima parte è sua... La prima parte è tutta mia... La seconda parte... La seconda parte... È l'analisi di questa strepitosa carriera del più grande marchigiano della storia, insieme a Rossini e a Leopardi... Hai capito... Ma ormai siete diventati amici... Poi andiamo a andare, sta arrivando il punto di vista... Poi andiamo a andare... Poi andiamo a andare... Poi andiamo a andare... Poi andiamo a andare... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.